Ciao ragazze, allora questo è un video un po' particolare perché testeremo un prodotto su strada per la prima volta, non l'avevo mai fatto, quindi mi seguirete in una giornata con Tomas tra l'altro, quindi vedrete anche lui, mi seguirete in una giornata in cui appunto sono uscita a photoshopping, poi sono stata a cena e naturalmente sushi come vi nominerete sicuramente e quindi mi vedrete a riapplicare il fondotinta, il risultato del fondotinta durante tutta la giornata, il fondotinta di cui vi sto parlando è questo nuovissimo fondotinta L'Oreal che si chiama Nude Magic Cushion ed è praticamente un fondotinta di nuova generazione, a parte che il packaging è molto carino perché è rosa logicamente, tutto quello che è rosa per me è fantastico, ma ha questo applicatore con questa spugnetta, con questo cuscinetto che è molto semplice in realtà non vi servono spugnette, io l'ho applicato proprio con questa spugnetta qui oggi e quindi è molto semplice, basta appoggiarla direttamente sul prodotto, sul cuscinetto e applicarla sul viso, quindi non servono pennelli, non servono altre spugnette di altro tipo, questo è tutto quello che vi serve quindi nel demo mentre sto parlando mi vedrete applicare il prodotto che è magicamente del colore della mia pelle, io quando ho visto la tonalità numero 3 mi è venuto un colpo, in realtà la tonalità numero 3 è la più chiara ed è perfetta per me perché non ho applicato colore sul collo e vedete che il colore è fantastico, ora vi lascio al mini video in cui mi vedrete in giro con Tomas per la città, a cena eccetera eccetera, tra l'altro in tantissimo lo avete riconosciuto quindi vi ringrazio e mi vedrete riapplicare il mio magic cushion durante la giornata a seconda della necessità faccio più tap, quindi magari un tap, due tap per una coprenza leggera o se non ho bisogno di particolari ritocchi quindi se invece voglio una coprenza un pochino più seria e magari per la sera così ne faccio tre e niente ragazzi questo era il mini video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere tutto nei commenti anche se avete provato questo fondotinta o se volete provarlo io intanto vi mando un bacio gigantissimo, mi raccomando per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, io non ve lo ripeto mai abbastanza evidentemente ma li leggo sempre tutti 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 anche se magari non rispondo a tutte perché siete in tantissime e ormai sono ovunque su tutti i social la mia app quindi veramente rispondere a tutte non è fattibile neanche se mi metto la tutta giorno non ce la farò mai, all'inizio ce la facevo adesso non ce la farò mai quindi anche di questo vi sono grata però scrivetemi perché leggo sempre tutti 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 i commenti anche se mi scrivete solo un punto io lo leggo, quindi vi mando un bacio gigante e alla prossima, ciao! Grazie a tutti!